La perizia tecnica disposta dalla procura della Repubblica di Palmi per accertare le cause dell'incendio in cui venerdì scorso San Ferdinando è morto il senegalese Silla Nouma è la prima che viene eseguita dopo il decesso di un migrante nel centro della piana di Gioia Tauro. Nei precedenti tre episodi, infatti, verificatisi tutti nella vecchia baraccopoli che è stata smantellata, non erano stati disposti esami di questo tipo. Nel caso della morte di Silla Nouma ci sono alcuni elementi emersi degli accertamenti investigativi che meritano un approfondimento, anche se il procuratore Ottavio Sferlazza ha ribadito che non c'è nulla al momento che possa fare ipotizzare che l'incendio di venerdì scorso possa avere avuto un'origine dolosa. Un dato che la procura ritiene meritevole di approfondimento, tra l'altro, è quello che riguarda la posizione in cui è stato trovato il corpo senza vita di Nouma, supino e con le braccia protese verso l'alto. Un altro elemento che le indagini dovranno accertare è se il migrante morto nel momento dell'incendio, verificatosi attorno alle 6 del mattino, si trovasse effettivamente da solo nella tenda, così come emerso delle prime testimonianze raccolte da investigatori, malgrado la presenza nella tenda di altre brande.